Sono Piercaro Lava, sono con il signor Gaetano Forge, siamo qui in via Galimberti e qui c'era un grosso ramo caduto questa notte che occupava tutto il marciapiede, come si può vedere, e il signor Gaetano, che è arrivato in bicicletta, l'ho visto io, si è fermato e l'ha spostato da marciapiede, è un bel gesto, perché l'ha fatto? Così che almeno si poteva passare anche per le altre persone che passano. Quindi ha dimostrato che bisognerebbe collaborare in questa città? Bisogna collaborare. Cosa che però a quanto pare non avviene, ad esempio l'abbandono dei rifiuti fuori Cassonetto, lei cosa ne pensa? Anche quello è un cattivo esempio che danno. Ecco, ma perché c'è questo grado di inciltà, secondo lei? Perché c'è troppo menefreghismo. Menefreghismo, ho capito. Beh, complimenti e buona passeggiata. Grazie. Arrivederci. Il signor Gaetano se ne va, dopo aver spostato questo grosso ramo. Se tutti facessero come lui, daremmo una mano alla città.